Ciao, conosci Arnold? Oggi cercherà di trovare il megalodonte, un enorme squalo preistorico, lungo 50 piedi, con un peso di 88.000 libre. Assomiglia a tua madre, solo un po' più piccola. Per trovare il megalodonte, Arnold dovrà immergersi in profondità fino al punto più basso della terra, la Fossa delle Marianne. Arnold, presta attenzione a questo marchio di 558 piedi. E' proprio a questa profondità che un uomo sarà schiacciato dalla pressione dell'acqua. Prepariamoci adeguatamente. E questa porta, davvero, non può resistere a entrambi. Tuffiamoci su! La luce solare penetra solo una profondità di circa 0.6 miglia. Arnold, guarda, queste sono sorgenti idrotermali chiamate black smokers, e spellono acqua ad una temperatura di 842 gradi Fahrenheit. La temperatura è di circa 39.2 gradi nella parte inferiore della Fossa delle Marianne, a causa di queste fonti di calore. Bene, eccoci qui in fondo. La pressione qui è di 108.6 megapascals. Questo è mille volte più grande della superficie. Ci sono 1.7 tonnellate di pressione per centimetro quadrato. Se non avessi un sottomarino, saresti stato appiattito allo spessore di un foglio di alluminio. Sembra che non ci sia nessun megalodonte qui. A causa dell'alta pressione, tutta questa profondità si trasforma in un muco viscoso. Quindi, sei a casa qui. Usciamo! Come puoi vedere, non ci sono megalodonti, sirene o altre creature magiche nella Fossa delle Marianne. Sono tutte fiabe! Sai, Arnold, mi sono sbagliato. Tua madre non assomiglia al megalodonte. Più come l'arcidemone Cthulhu.